Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale bentornati a un nuovo episodio di Crusader Kings 3 Siamo oggi con il nostro re Odor Strybjorn Swanswans di Inghilterra E andiamo subito ragazzi a creare l'impero a questo punto E... via Diventiamo adesso imperatori E creiamo una runes... ton Sì E la mettiamo Ora, dal momento che ho la runestone tu devi peggiorare il tuo status Quindi andiamo a perdere... iniziamo... quanti anni c'hai tu? 11? No un altro pochino miseria Vabbè intanto iniziamo questo qua Lunga vita all'imperatore E... Non posso abbracciare questo Allora, dichiariamo anche una guerra perché è un po' che non combatto e ho paura che i miei vassalli... Infatti meno 28 di... Sono arrabbiati che siamo in pace Quindi... Diplomazia No Allora me lo faccio da solo Conquistiamo il Ducato Ok Tiriamo via tutti Vai E poi andate qua giù Posso Ah, già abbiamo catturato il figlio Quindi facciamo subito la pace Ottimo Allora Questo qui lo diamo via perché proprio non mi riguarda Lo do a te Ti do tutte e due E... Questo Ducato Vabbè lo posso creare dopo quindi Non è... non è un problema Ok Così almeno mi sono donto anche il malus Della... Della... della guerra Ok, perfetto Ora mind and body Learning è più uno Oppure guadagniamo il tratto atletico No 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 Facciamo questo Ce l'avevo io mi petembra, no? Rimuovi Lost you Ok, sì Quindi speriamo Che esca fuori un bel tratto Ora con l'impero Non dovremo avere problemi di... Di successioni Qualsiasi cosa accada Via Ok Non ti do niente a te Ne tengo io tutte le corone Allora vediamo qua che sta succedendo Dai Allora Tu sei piccolo e c'hai un'erede E c'hai due titoli Quindi se muori questa roba si divide Quindi ci sarà poi Aquitania Che è questa qua giù E la Francia Proviamo a ucciderlo 45% No Meglio di no Meglio di no Lasciamo stare Guadagniamo il tratto obeso Ottimo Qui siamo pur E andiamo di qua Direi di cambiare Direi di mettere Questo qua Così ci togliamo anche Il piccolo boost Alla vita E... Save the stars Vediamo un po' Facciamo lui va Ci dà un bel bonus Questi li togliamo Che sono i tip del Del tutorial Allora Lui è mio figlio Prende il tratto gridi Questo non è male E prende questo Oppure lo sturioso Vertilità Intrigo No forse gridi Io lo mazziamo meno due Però tu dove sei orientato No Guardi qua Gridi vai Andiamo sulla marzialità Andiamo sulla marzialità Guadagna 15 di opinione Va bene Vai sul marziale Perché Mi interessa Mi interessa fare la guerra Quaggiù Ok Questi li sono divisi Com'è possibile? Forse lui ha reclamato il titolo Lui Lei Regina Mafalda 95% Vai Cerchiamo di spaccare Questo regno Perché poi Tanto sale un bambino Al trono Tra l'altro E' anche stupido Mamma mia Che brutto Penso questi sono Dei peggiori tratti Che ci sia Di quelli negativi Chiamata la guerra Beh accettiamo Vai Contro chi siamo 7000 Contro 5000 Ok abbiamo scoperto I lavori pubblici Quali erano però Erano forse di qua Eccolo qui Public Works Ah ok Perfetto Perfetto Ora Mi pare che questi Non era Però qua Dove potevamo ancora Sviluppare Però non so Se voglio sviluppare qui Questo lo facciamo Comunque Mmm Facciamo così Vai Proviamo a ucciderla Vediamo un po' Ok Quindi adesso è salito Un bambino al trono E questo lo lasciamo qua E ora vediamo Che succede Tanto il trono di Francia Dovrebbe essere Ambito da Un bel po' di persone Quindi Qualche cosa dovrebbe succedere Poi sicuramente Non sa regnare Questo qua Infatti ho 5000 uomini Potrei addirittura Dichiararti guerra Cioè Pensa Solo che sei cattolico Quindi Non mi sembra Non mi sembra il caso Però si potrei 18000 uomini Qua invece Come siamo messi Tu ce n'hai 15000 E' il mio piccolo Claim Andiamo avanti Ah infatti Già c'è una guerra In Francia Eccola qua A posto Pure Capitania Potrei Però non c'ho Grandi Questo che è? Mia figlia Vabbè Lei che non è sposata E sforna ragazzini A go go Vediamo se c'è magari Qualche Qualcuno Di questi Perché non ci può venire? Tu? 75 Vediamo un po' 160 Ma 75 Era quasi Ci possiamo provare? Eh no Dovrei farbricare un hook Per farlo venire La corte Questo è troppo lontano Questo pure 120 Eh niente Vabbè Ci abbiamo provato Abbiamo investito 70 monete Eh sì Facciamo questo Che comunque ci dà Piccolo bonus 270 monete Le abbiamo Abbiamo 40 Monete a turno Quindi non è Insomma Non è un problema Continuiamo ad andare Di qua Ora vorrei Un attimino Però Continuare a Convertire La cultura Perché qua Andiamo di qua A convertire E la Religione Ah La religione Ci siamo quasi Manca solo qua Vai Iniziamo a convertire Anche qua Siamo tutti Nordici Quindi poi Potrei anche Fare la Chi è questa? Vabbè Mia figlia Va bene Eeeh No Paghiamo 200 Monete E prendiamoci L'esperienza Non c'è un modo Per Una caccia Mamma mia Quanto sono Quanto sono pesante 99% Prendiamo il tratto ferito Vai Tu c'hai 16 anni Oh Sei arrivato Alla maggiore età E sei Un esperto Soldato 10 Gridi Temperato Impaziente Ok Va bene Va bene Poi dopo Ti troviamo Una bella Mogliettina Mi devi abbandonare Però Vedete Se non Un po' No C'è qualcosa Che mi fa del male Opinione popolare Opinione popolare Se mi stresso E se mi stresso Come posso stressarmi Facendo omicidi Così mi posso stressare Ok Iniziamo a essere anche Flagellante Vai Sì Sediamoci Ok Sto morendo A posto Oh Mazza Ah Quella era la vittoria Peccato Mi sembrava La La morte Ehm C'ho un modo Per flagellarmi Ancora di più Vediamo Adesso che sono Flagellante Ehm Mamma mia Vai Sì Boom C'è Sto morendo Sono morto Praticamente Lasciategli Le mie pene Dai Su Che Te devo sparare Cioè che devi fare Mori Vai giù Sì Tanto le successioni Stiamo bene Ah morirò Entro un anno Eh non lo so Tiè Guarda che roba Cioè vedi Faccio stressare Ancora di più Non è che è un problema Anche se credo che Quello che sto facendo È un po' esagerato Cioè nel senso Ehm Dovrebbe andare giù Immediatamente Insomma Non credo che ci siano Modi per cui tu possa salvarti Cioè penso un paio di mesi Siamo a luglio Ah non è anche il player Che voglio sbloccare Dai su Ehm No Il mio cuore rimane puro Dai siamo arrivati alla fine Vogliamo fare una festa D'addio Facciamo una festa Vai Facciamo una festa D'addio Ehm Chiudiamo questa finestra Un attimo Eh Annaggia non mi fai leggere Il tratto Vabbè facciamo lui Comunque Ehm Guadagniamo 50 Questo qui è Mio passallo No Diventiamo amici del mio passallo Tanto quello è mio figlio Oh Sono morto Finalmente Lunga vita All'imperatore Fermi tutti Ora Ci segniamo Il consiglio Stiamo in pausa Ok Assegniamo lui Poi Uno steward Mettiamo lui Marshal Vabbè Direi lui Spymaster Eh Direi Direi lui Quello che è insomma Chi sei? Sei un uomo Ok Tu fai questo Tu fai questo Tu fai questo Mi devo sposare Ah Allora Innanzitutto facciamo Marshal E Andiamo su Dread Prigionieri E iniziamo a fare Un massacro Allora Tu sei Tu non sei niente Tu non sei niente Tu sei il lige Di questo qua Però non Sei della stessa casata No Quindi ti posso Ti posso uccidere Te Ok Sessanta va benissimo E Togliamo tutti questi Che non mi servono E andiamo a cercare Ok Andiamo a cercare Una moglie Allora C'ho Te Che non mi dai il claim Tu mi dai il claim Allora C'ho te Che mi dai il claim E tu sei gobba Quindi no A questo punto Mi metterò con lei Devo stare cinque anni Senza una sposa Sei anni Senza una sposa Però i miei figli Avranno il claim Sulla Svezia Su tre regni Quattro regni Svezia Norvegia Estonia e Danimarca Sì Facciamo così E Concubine Direi di no E Va bene Tu mettiti però A Proteggermi Da eventuali aggressioni Facciamo una runestone E Su Mio padre E La facciamo Qua Ok E potrei anche fare lui Perché in realtà La popolazione Per lo più è tutta cattolica Quindi Potrei anche farla Tu mi odi perché Tu mi odi Vediamo se ci sono Prima delle fazioni Che mi si creano Contro Facciamo una festa Subito Così E Benvenuti Certo Questi vestitini Sono proprio brutti So Veramente brutti Cioè Non ti prego Non ce la faccio Non c'è una Bella armatura No Templare Proprio no Bizantino Liroman Eh perché C'hanno questi Da nobili Ma non Mi fanno Impazzire No Ah sono nobile Perché c'ho questo Vabbè dai Fa l'imperatore così Però un cappellino Dai mettitelo Una coroncina Eh dai Una coroncina in testa Mettiamoci Magari Sto 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 Ecco Vai Una coroncina Su Allora Non mi ricordo che fa Questo tratto Lo vediamo subito Learn in meno uno Sto che meno 25% Ok Già Eh questi Già mi vogliono Questi già mi odiano Tu stai a 100 Tu stai a meno 100 Che desideri Questi territori E io che ti posso fare Perché c'hai Due ducati Perché c'hai Due ducati Tre ducati C'hai Se te lo do Sicuro Si crea una rivolta E tu faresti Allora Innanzitutto Le tasse Te le metto Normali Poi Iniziamo con Uno sway Poi ti posso dare Questi due E quanti Eredici hai Una donna Questo è figlio C'è un figlio solo Da Outer Da Outer Sonno Quindi sicuramente qualcosa si divide E quanti anni hai? 34 Quindi qualche cosa potresti anche fare Eh va bene Te li do Quindi il 23% A breve lo dovremo togliere Ok Uno l'abbiamo tolto E Adesso Togliamo anche lui Che insomma Adesso dovrebbe salire E quindi rimane soltanto Questo qua A questo punto Spero che mi dica di guerra Perché almeno me lo sistemo Te sei un conte Un conte che tra l'altro Potremmo anche Tu mi odi perché Dovei darti il ducato Anche a te E c'hai due figli Potrei fare questo E darti il titolo ducale Facciamolo Garantisci titoli Questo Ok Così nel momento in cui tu Morirai Questo passerà Ai tuoi figli Quindi questo l'abbiamo tolto E mi rimane solo lei Che ovviamente mi odi E va bene così Ok perfetto 10.000 uomini C'abbiamo un altro Conte qui E sei Fai parte di Questo ducato E Te lo do Ok Va bene ho perso Marshall Se ti metto a te Che succede 52 Beh il posto Te l'ho dato Ora Facciamo anche Una bella caccia Per Togliere un po' di stress Prendiamo un trofeo Oppure No Prendiamo un trofeo Ok Facciamo Il Devozione A Ul Marziale da più e tre Vai E facciamo un pellegrinaggio E andiamo 4 e 50 Vai Partiamo E Facciamo questa Perdiamo monete Cadeghiamo stress Tanto le monete Non sono un problema Perdiamo 20 di stress Spendiamo 50 Prendiamo lui Invece Vabbè Su lui ci stiamo lavorando Potrei anche fare Però prendo 30 di stress Ok Adesso sono a casa La gente sta continuando A entrare Forse perché Sono in pace Da troppo Sì Devo fare una guerra Piccolina Ma a chi Ma a chi faccia Una guerra E' quello il problema Perché per ora C'ho un meno 6 Facciamo questo Intanto Ci prendiamo Già Allo stress Critico Ok vai Eh però Mi serve Facciamo 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 questo Vai Moviare piano Lo stress Lo andiamo a prendere Poi questo Lo facciamo Un po' più in là Mio nipote Facciamo questo Prendiamo un po' di stress Allora The god The god The god The god Blood Vai Ok Oh Ma che cavolo Ma quando l'ho preso Io Ah Oh mio dio Questi sono tutti i miei vassalli Ah no Sono tutti i vassalli Suoi Eh no Però così mi hai tolto No Mamma mia Allora Andiamo un attimino avanti Guarda la Svezia Cioè Praticamente Ma ha annullato Cioè Ha annullato Quello che io volevo fare Nella mia serie Cioè Nella mia serie Io volevo Fare la guerra dei cent'anni Prendere la Francia Andare su Abitania E niente L'abbiamo bypassata Perché ce l'ho già E tu non puoi Tenere tutti i sti vassalli Però Cioè È impossibile Che tu rieschi a tenere Tutti questi vassalli Tutti questi piccoli conti Non puoi È impossibile Una cosa del genere Tuodino Allora Facciamo Facciamo Questo Qui No Facciamo questo Prendiamoci Lo più Neve Perché questi Perché questi qua Non sono Mie vassalli Quindi io Non posso Dargli nulla In teoria No Ti posso dare le cose Quindi volendo Potrei anche Cambiare tutto Potrei farlo Potrei farlo Certo Devo investire un sacco Dei soldi Però potrei farlo E tu hai creato la corona Non mi piace questa cosa Forse avrei dovuto Crearla io la corona Avrei dovuto crearla io la corona Perché ora questa diventa un bel problema Eh già E invece Io lo faccio Rally Call to war Così mi prendo tutti i titoli io Assolutamente Sì Ti recluto Perché mi servi qua Ok E le mie armate Sono Abbastanza Mamma mia Eh Tiriamo tutti qua E Quanti siamo Voglio vedere Quanti sono loro Voi siete 18k Io ce ne ho 9 Però se prendo un po' di mercenari Ce la dovrei fare Allora ragazzi Io direi che noi ci combattiamo Questa guerra Nel prossimo episodio E E niente Fatemi sapere Che ne pensate del video E noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti